Musica, fede, gastronomia, restate a Sarno 2023 ne ha per tutti i gusti. Luglio ed agosto sono i mesi in cui va in scena senza sosta la rassegna cura dell'amministrazione comunale a sostegno delle attività commerciali. Concerti di vario genere con artisti di fama, degustazioni di petanze tipiche, celebrazioni religiose, kermesse folkloristiche, insomma cultura tutto tondo. Con appuntamenti che ogni sera propongono momenti coinvolgenti per la cittadinanza tutta. Dubbi? Basta dare un'occhiata all'elenco degli eventi per correre ad annotare sull'agenda e non perdere neanche un momento della rassegna. Restate a Sarno. Grazie. Grazie.